molto molto attentamente decidiamo quanta acqua metterci aspetta fermo giorgione deve fare sfreddare l'acqua se no si squaglia il parmigiano e diventa tutto filoso capito se tu stai dicendo a giorgione come farla che fa e faremo una sorta di cremina vediamo un po quanta di reserve poi casomai la aggiungiamo